È un partito profondamente in crisi, in cui una parte evidentemente vuole stare nel centrodestra con Salvini, qualcuno guarda Renzi. Renzi alla Leopolda fece una grande apertura al mondo berlusconiano, definendo Berlusconi un modello di destra europea e liberale. Quando invece Berlusconi in questi vent'anni è stato esattamente l'opposto, è stata l'anomalia rispetto alle destre europee e liberali. Io, Lili, ti devo dire la verità, a me sembra che stiamo parlando del nulla, cioè che questo disegno è già fallito, perché il disegno di Renzi di scimmiottare un po' Berlusconi, quando stava al governo litigò quei sindacati, propose il ponto sullo stretto, se Berlusconi gli avesse chiesto i diritti d'autore lo avrebbe mandato fallito. Con l'idea di prendere l'elettorato moderato è un disegno che si è già schiantato, semplicemente perché noi continuiamo talvolta a raccontarci i moderati come moderati che non sono. Ce li raccontiamo come se stessimo negli anni 90, quando il ceto medio massacrato dalla crisi non vede Salvini come un pericolo, ma sta arrabbiato e lo vede come un vettore di cambiamento. Lo ha fatto anche con i 5 Stelle, poi i 5 Stelle sono falliti politicamente, ma noi diamo una rappresentazione, temo, un po' antica dei cosiddetti moderati.